In occasione del 2 aprile, giornata della consapevolezza sull'autismo, quali sono le iniziative che verranno proposte qui in provincia di Sondrio? Quest'anno la celebreremo qualche giorno prima, cioè il 27 di marzo, mercoledì, che proietteremo al Cinema Excelsior, che c'è sempre molto vicino e ci aiuta sempre le nostre iniziative. Ci sarà un film che si intitola The Specials, fuori dal comune, che riguarda l'autismo in età adulta, perché non ci sono solo bambini autistici, ma ci sono anche adulti autistici, anzi l'autismo fa parte di tutta la nostra vita, sia del soggetto che ne ha affetto, sia di tutta la famiglia. Al pomeriggio poi ci saranno dalle 2 fino alle 9, cioè prima del film, l'associazione Radio Amatori Sezione di Sondrio, che sarà in garberia, nella piazzetta Teresina, tu a quadrio, e trasmetterà con un canale speciale proprio una sensibilizzazione su questo problema a tutto il mondo. Nel film ci sono tematiche molto importanti, per esempio di cosa si parla? Allora, il film tratta dell'autismo in età adulta, in particolare c'è una battuta molto speciale, diciamo, nel film, che dice una mamma, cosa ne sarà di loro quando noi non ci saremo più? E questo è il problema che hanno tutte le famiglie con ragazzi disabili. Un'altra cosa molto importante che viene detta nel film è che l'autismo è una disabilità paradossale, cioè più sei grave, più hai un autismo in forma grave e più hai possibilità di rimanere da solo in casa senza alcun sostegno. Ci sarà anche un altro evento il 13 di aprile. Il 13 di aprile al Polifunzionale di Villa di Tirano, siete tutti invitati, ci sarà un bellissimo concerto di Music & Friends che raccolgono fondi anche per noi e si intitolerà La Notte degli Oscar.